Ciao a tutti e bentornati sul mio canale Anita Stories in questo nuovo video andiamo a fare 4 slime senza colla suggeriti dalle vostre ricette quindi assicuratevi di guardare il video fino alla fine per vedere tutte le ricette e per trovare la parola segreta del giorno allora iniziamo subito mi raccomando lasciate un like se volete vedere altri video di slime senza colla per la prima ricetta ringrazio Gloria Nino Auspici per aver consigliato questa ricetta e dovete prendere un po' di detersivo per piatti qua ne sto mettendo un cucchiaino perché tra l'altro era finito ho finito un bel po' di ingredienti per fare gli slime senza colla e devo rifornirmi al più presto come sempre lasciatemi le vostre ricette nei commenti poi quelle con più likes proverò appunto a farle oppure altre ricette che mi sembrano originali che non ho mai fatto ho aggiunto anche un po' di bagnoschiuma vado a mischiarlo un po' poi l'ho messo nel microonde per circa 10 secondi e si è sciolto proprio vado ad aggiungere un pochino di sale mescolatelo di nuovo e poi mettetelo in freezer per 10-15 minuti allora ecco il risultato devo dire che si staccava bene dalla ciotola si è staccato praticamente subito il colore è super carino perché il bagnoschiuma che ho preso è viola ed ecco qua è diventato una sorta di gelatina tipo jiggly slime comunque è uscito ed è super carino quindi grazie mille per aver consigliato questa ricetta prossima ricetta grazie Antonio Mazzaroni per aver consigliato questa ricetta vado a utilizzare sempre il detersivo per piatti tra l'altro ho visto dopo che ci voleva anche il dentifricio e ho dimenticato di metterlo quindi in realtà in questa ricetta dovete aggiungere anche il dentifricio poi aggiungo un po' di sale mescolo il tutto finché non si raggruma un po' come qua come ho detto negli altri video per il detersivo per piatti dovete prenderne uno tipo questi della Lidl un po' opachi e consistenti in genere quelli trasparenti non funzionano bene perché sono troppo liquidi andiamo a metterlo ora in freezer per 10-15 minuti nel frattempo facciamo un'altra ricetta di Manu Horse Love e iniziamo mettendo un po' di glitter poi ho già messo il colorante come potete vedere dalla ciotola sporca allora dovete prendere del blue tack oppure la pritt tipo questa oppure ci sono tantissime marche che ne fanno anche appunto più economiche che fanno questa sorta di non so come si chiama questa sorta di pasta insomma che attacca le cose la blue tack praticamente quindi dice di prendere questa io ne ho messo tre poi per ammorbidirla la vado a mettere nel microonde per circa mi sembra che l'ho messa sui 15-20 secondi ora che è un po' ammorbidita aggiungo un pochino di lozione per renderla ancora un po' più morbida e inizio a mischiarla non vi preoccupate se all'inizio è un po' dura ci vuole solo un po' di tempo dovete mischiarla per un bel po' tra l'altro stavo cercando di farli assorbire bene i glitter ma non so perché ma non ho preso bene il colorante e i glitter forse dovevo metterli dopo o dovevo scaldarla di più e farlo sciogliere un po' di più ed ecco qua il risultato devo dire che è molto antistress perché non è troppo molle e soprattutto è ottimo se volete giocare con uno slime a scuola mi avete detto che in molte scuole sono proibiti gli slime fatemi sapere se anche per voi nella vostra scuola gli slime sono proibiti quindi con questo sicuramente non ve lo possono sequestrare perché può essere anche materiale scolastico quindi se volete giocare con uno slime a scuola questa è un'ottima idea quindi grazie mille per aver consigliato questa ricetta allora nel frattempo prendiamo lo slime di prima dal freezer e vediamo come è uscito continuo a mescolarlo un pochino perché sarà un po' spatto se vedete che è rimasto troppo liquido potete aggiungere un pochino di sale ed eccolo qua è diventato una sorta di gelatina jiggly super carina anche il colore super bello e ovviamente se volete tenerlo così e non volete che si sciolga dovete conservarlo in frigo o in freezer non potete lasciarlo fuori ed eccolo qua è super carino si può anche tenere in mano è rimasto abbastanza solido quindi grazie mille per questa ricetta passiamo alla prossima allora ringrazio Lady Michelle che suggerisce questa ricetta allora vado a mettere innanzitutto un po' di glitter ho preso questi blu che sono super belli ecco qua guardate che belli questi glitter poi vado a mettere un po' di palline colorate tutti questi ingredienti sono opzionali però renderanno lo slime molto più carino poi dice di usare la maschera per il viso vado a mettere un bel po' in realtà non ho mai fatto uno slime con la maschera per il viso e palline o brillantini quindi sono curiosa di vedere come esce poi aggiungo il bicarbonato e la soluzione per lenti iniziamo a mescolare e tra poco ho incluso anche l'audio così potete sentire i rumori fantastici che fa questo slime guardate tra l'altro che belli i glitter come si fondono bene infatti per quello vi consiglio di comprare delle maschere peel off trasparenti o questa ad esempio è verde trasparente non quella nera altrimenti non si vedono bene i glitter ah parola segreta del giorno slime glitteroso quindi come sempre se avete visto il video fino ad ora scrivete nei commenti slime glitteroso allora continuate ad aggiungere la soluzione finché non si stacca completamente e ora vi faccio vedere il risultato con i suoni fantastici e ora vi faccio vedere il risultato Grazie. Grazie. Grazie.